buongiorno buongiorno a tutti buongiorno carissimi allora vi invito ad iscrivervi al canale se non siete già iscritti mi raccomando iscrivetevi tutti e fate iscrivere tutti i tifosi della fiorentina che conoscete seguitemi sui social specialmente su twitter perché è lì che commento live la partita le partite che seguo quindi tutti a seguirmi su questi social e oggi ho un bel po di cose da dirvi sulla fiorentina perché è da qualche po di giorni che non faccio dei video in materia e le cose si sono accumulate un po come quando pranzate fate il pranzerio di natale e la mattina dopo dov'è che vi raccate il gabinetto e sapete già che non sarà una cosa che liquidate in dieci minuti ma ci vorrà ben affleck ci vorrà ben altro ecco siamo nella stessa situazione allora iniziamo da iurici ieri il buon presidente del verona setti ieri è stato interrogato ai microfoni sono sbaglio di sky gli è stato chiesto se iurici rinnoverà e lui ha detto non lo so vediamo deve decidere noi l'offerta gliel'abbiamo fatta insomma ha fatto capire che il buon ivano avrà qualche giorno di riflessione tutti hanno collegato la faccenda alla fiorentina allora io prendo questa cosa per fare un discorso più complessivo sull'allenatore della fiorentina perché è specialmente venerdì ho letto delle cose che mi hanno un po mi hanno un po insufflato la sacca scortale allora lo dico con chiarezza dopo questa stagione qui la fiorentina ha una semplice strada davanti ok quella del rilancio devi rilanciare le ambizioni lo status gli obiettivi e il progetto della fiorentina ad un livello diverso da quanto visto quest'anno la figura dell'allenatore non è l'unica a fare questo gioco ma è essenziale le strade per fare bene questa cosa sono due e parlo proprio di nomi la prima è spalletti se tu sei una società che ha voglia di rilanciare la fiorentina e di portarla dove merita perché faccio presente ai tifosi purtroppo delle generazioni più giovani che credono di tifare una squadra tipo il sassuolio vi faccio presente che siamo la quinta squadra per punti raccolti della storia della serie a e quelle sono le posizioni di classifica cui dovremmo ambire poi capisco che molti siccome si sono spesi quest'estate per commisso allora appena c'è un barlume capito devono subito trionfa listeggiare e festeggiare ma in realtà i nostri standard non sarebbero quelli di questa stagione qui fortunatamente e allora io dico passi il primo anno che ci possano essere stati degli errori tecnicamente però non si scherza più dalla fine di questa stagione cioè mezz'ora dopo che questa travagliata stagione finisce si deve già pensare all'anno prossimo e pensarci bene perché siamo al secondo anno e non si scherza più le strade a livello di allenatore per effettuare questo rilancio sono due o mi vai su spalletti che oggettivamente è un allenatore di status anche bravo di un certo livello che può garantire prestigio e anche attrattività a un tuo progetto di rilancio verso l'europa oppure mi scegli una strada diversa che va ugualmente bene magari non così blasonica che è fatta di due figure De Zerbi o Juric che possono essere quelle scommesse ma in positivo simili a quanto fatto anni fa con i Montella e i Prandelli che dici non mi vado a prendere un allenatore di primissimo livello ma punto su due emergenti che possono avere un loro senso queste sono scelte che possono andare bene no perché venerdì ho letto sul fiorentina.it un articolo che mi ha un po gelato il sangue perché c'era scritto che vabbè che Emery e Pocettino bisognava dimenticarseli vabbè ma quello per chi segue questo canale era già dato per assodato ma che anche su spalletti c'era qualche problema poteva esserci qualche problema perché prende tanto fino al 2021 sotto contratto con l'Inter e anche perché attenzione attenzione c'è la possibilità che la fiorentina ereditata dal prossimo mercato non corrisponda alle aspettative che spalletti vuole per ricominciare ad allenare ok cioè che non sia così forte in soldoni da poter accontentare spalletti questa non è una cosa da poco allora io dico scegli Iuric mi sta bene mi piace molto specie tatticamente però attenzione perché il primo anno in cui ritorniamo in serie a è vero che abbiamo avuto un anno negativo quello che ci siamo salvati all'ultima giornata quando c'era chiellini maresca amicoli con la squadra lì ma l'anno dopo abbiamo cambiato ds abbiamo cambiato allenatore siamo arrivati quarti ok no perché anche qui si dà ormai per scontato come sembra che resti pradè che già non sarei tanto d'accordo onestamente però voglio dire se devo tra virgolette accettare perché ormai sembra così che resti pradè e che probabilmente resti anche barone che già ripeto a mio avviso non iniziamo benissimo anzi perché avrei fatto un restyling anche di quei ruoli cioè almeno di tre su uno l'allenatore cerchiamo di prenderlo buono perché dopo sullo stesso articolo leggevo i nomi dei possibili candidati alla sostituzione di Iachini e leggevo scusate leggevo di francesco leggevo giampaolo leggevo semplici mazzarri maran maran tedesco dello schalke 04 cioè a quel punto se deve arrivare sta gente mi tengo Iachini ma non perché siano cattivi allenatori ma perché vi ripeto dopo quest'anno non ci deve essere trippa per gatti bisogna fare un rilancio che passa anche attraverso l'allenatore allora speriamo che Iuric non rinnova e venga da noi mi va bene ma attenzione che se Iuric rinnova e De Zerbi ha già rinnovato e non riesce andare su spalletti si preannuncia quella situazione che vi ho detto settimane fa attenzione che non ci ritroviamo poi a dover cambiare allenatore ma avere in casa una figura che non è che inizi perché se tu mi pigli un Maran o mi pigli un Giampaolo capisci che anche a livello psicologico a livello di inerzie a livello di fomento e contano quelle dimensioni lì anche di attrattività per possibili giocatori non è che inizi benissimo dopo un anno già negativo come questo attenzione sulla figura dell'allenatore mi spiace per il Verona ma spero che Iuric venga da noi a sto punto se no è da ridere se no è da ridere se no è da ridere quindi attenzione specie a certi nomi di alternativa bene parliamo di un'altra cosa che è quella di Manzuki e anche questa la leggo più in generale all'attacco avete visto che adesso tutti hanno riscoperto Cutrone Cutrone Bomber Cutrone va riscattato Cutrone fortissimo abbiamo Cutrone oh ma io vi dico di più anche se non avesse fatto tutti sti gol nelle ultime partite io l'avrei riscattato comunque perché vi dissi si compriamo Cutrone ma lo vorrei vedere giocare in una situazione tattica che mai se non per scampoli di partite in cui abbiamo vinto pareggiato fatte ottimi prestazioni l'ho visto giocare cioè con una punta vera a fianco possibilmente con caratteristiche complementari che è Vlaovic quindi anche se avesse fatto cacare l'avrei riscattato figuratevi adesso anzi c'è un articolo sempre su fiorentina.it in cui si dice addirittura che le prestazioni recenti di Cutrone sono un messaggio a Mancini per Euro 2021 la stessa cosa che vi dissi quando Patrick arrivò a Firenze vi dissi attenzione attenzione che con la penuria di attaccanti che ha l'Italia di centramanti perché purtroppo siamo carenti in Corolla ci sono solo i mobili e i velotti che sono forti buonissimi ma non sono dei top player a mio avviso occhio che Cutrone può inserirsi in questo tipo di dinamica e adesso tutti dicono occhio perché per Euro 2021 se il ragazzo va avanti così teniamolo in considerazione consideriamole capito le stesse parole che vi ho detto quando arrivò occhio perché all'epoca non si sapeva che l'europeo sarebbe stato rinviato vi dissi occhio perché se in grana se lo facciamo giocare bene se lo inseriamo in un meccanismo funzionante anche per Euro 2021 Cutrone può giocarsi le sue carte adesso viene fuori discorso Mandzukic si inanella su questo può anche stuzzicarmi un Mandzukic che viene con uno spalletti in un 4-2-3-1 con un con un'alternanza Mandzukic-Vlaovic davanti ma Cutrone è qua a me cioè io dico in attacco come vi ho sempre detto abbiamo un sacco di gente che potrebbe giocare bene fidatevi di me quante cose vi ho detto quest'anno che poi si sono rivelate vere sulla Fiorentina e su altro posso posso avere dei crediti verso di voi credo di essermeli meritati allora vi dico fidatevi di me che se troviamo un allenatore che sa far giocare a calcio una squadra con un minimo di mentalità offensiva che di attacco se ne intende vedere Vlaovic e Cutrone in un 3-5-2 in un 3-4-1-2 giocare assieme noi la coppia del futuro ce l'abbiamo già non andare sulle figurine i Mandzukic gli Higuain non 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 è impor non servono i Belotti che dopo ci torno non serve fate giocare assieme Vlaovic e questo Cutrone vedi come rendono provali che hanno una crescita anche loro l'anno prossimo che si emancipano che fanno bene con uno in fascia due in fascia che li servono vedrete che ci divertiamo quindi Mandzukic per me ad oggi è un no perché prima voglio dare priorità al mio progetto tecnico tattico che è quello che fanno tutte le squadre che stanno facendo bene ci fanno mangiare feci da inizio anno Sassuolio, Atalanta, Verona tutte squadre che prima mettono il progetto tattico tecnico le idee dell'allenatore e su quello innestano i calciatori al mercato così fa un progetto che funziona noi invece sentire le critiche sembra il contrario cioè che pigli le figurine e su quelle figurine che prendi cerchi di organizzare una squadra non si fa così e allora partiamo da una rosa che è anche buona diamogli un progetto tecnico tattico coerente che funzioni che mette in condizione la gente di rendere poi eventualmente fai gli innesti e non a figurine ma funzionari non vedete l'Atalanta? l'Atalanta è talmente rodata, oliata, forte che prendi Piripicchio e lo metti in fascia l'anno dopo vale 40 milioni ma non sempre è solo perché Piripicchio è un fenomeno ma perché Piripicchio è esaltato da quell'ensemble tecnico tattico noi questo dovremmo fare e vedrete che se si fa questo Vlaovic e Cutrone le soddisfazioni te le danno altro che Iguain, Mandzukic e i Goetze che sento ma purtroppo il problema è che anche una parte del tifo fiorentino è abituata a ragionare la giornata lo vedo nei miei commenti perdi tre partite e fanno tutti cagare ne vinci una a tutti i fenomeni e purtroppo è così anche Juric sono sicuro se viene a Firenze le prime 4-5 partite balbetta sono tutti a dire via Juric ma è un scarso, non vale niente invece le cose si ragionano sul lungo periodo specie nel calcio di oggi vale la progettualità una cosa che la precedente proprietà aveva capito devo dire e veniva sbeffeggiata quando parlava di progetto mi ricordo e vi ricorderete anche voi ok? mi ricordo anche voi detto questo sempre tornando al discorso sulla sassualizzazione attenzione attenzione perché io vedo qui nel mio canale gente giovane ma se voi vi fate un giro sulle fanzine della Fiorentina le aspettative per l'anno prossimo ci sono e sono giustamente ovviamente si vuole ragionare su sull'evitare tanti sbagli che sono stati fatti quest'anno specie da parte del pubblico più anziano ok? se voi vi andate a leggere quelle fanzine le mie critiche, le mie osservazioni vi sembreranno acqua di rose anche su commisso sulle dichiarazioni fatte sulle prospettive attenzione! perché qui è un canale youtube giovane con ragazzini che sono cresciuti con la Fiorentina degli ultimi anni ma se andate a sentire i vecchi che si esprimono in quel sito lì e mi fanno godere spesso perché anche in modo divertente colgono il segno delle cose ok? viva i boomer le mie critiche, le mie osservazioni le confrontate a quelle io sembro Andreotti sembro eh attenzione! perché poi qui vengono a rompermi i maroni la gente ma sei sempre negativo sei critico io? ma ve lo fate un giro sulle fanzine? dopo le partite? prima? quando si commentano le notizie di mercato? ve lo consiglio quello è il vero viaggio di scoperta vi consiglio di farlo ma è giusto così perché cazzo siamo la Fiorentina e certe cose è meglio farle per bene ok? bene poi un'altra cosa che mi fa ridere abbastanza che mi fa... allora a sentire la critica alla stampa siccome c'è Fiorentina-Torino si parlava un po' di quello di assi di mercato ieri su Tutto Sport se non sbaglio è venuta fuori anche la notizia che a gennaio la Fiorentina avrebbe offerto guarda caso i fattidici 40 milioni per Belotti allora ad ascoltare la stampa a vario titolo articoli giornali avremmo offerto da agosto 2019 a gennaio 2020 nell'ordine tipo 35 milioni per De Paul 50 per Tonali 40 per Suso e 40 per Belotti poi diciamo per mi viene da rire perché è normale poi a fronte di un destino cinico e baro usando Saragat no? tutte queste offerte queste grandi queste diciamo pontatine della Fiorentina di Commisso non sarebbero andate in porto e ci mancherebbe e per quello che non vuole quella non è andata in porto era troppo tardi non se l'è sentita cioè permettetemi di essere un tantino scettico su queste offerte che vengono che sarebbero fatte che vengono fatte non ci credo molto onestamente personalmente non ci credo molto al fatto che queste offerte siano state fatte poi se fosse ammesso non concesso che fossero vere cioè c'è anche da interrogarsi sul perché di su 4-5 giocatori neanche di primissimissima fascia perché non stiamo parlando non lo so di un Cavani di un di un Artur cioè stiamo parlando di giocatori di medio o alto livello ma che fino a 5-6 anni fa non ti non ti saresti stupito di vedere affiancata affiancati alla Fiorentina tu ti ha rifiutato? perché? cosa c'è che non va? cioè ammesso e non concesso che queste offerte siano vere ma vi ripeto personalmente ci credo poco ci sarebbe da interrogarsi anche su tutti questi rifiuti capito che riceviamo con queste offerte di mercato capito lanciate ma sempre all'ultimo no e questo no su e giù chiedo anche la vostra poi adesso ovviamente arriveranno tutti a dire sì è vero le abbiamo fatte ma no ma cosa dici sono offerte vere perché cioè però insomma hashtag riflettiamo hashtag riflettiamo detto questo passiamo a Fiorentina Torino e ho visto che si continua con questo 3-5-2 bene probabilmente ho letto che si dà un turno di riposo a Ribery è una partita che io mi sento da 1x nel senso che o vinciamo o pareggiamo partita che ha un significato relativo perché tutte e due le squadre sono tranquille e altri obiettivi non ne hanno relativamente tranquille per la salvezza sono quasi salve e dovrebbero giocare Quame e Cutrone davanti e Chiesa in fascia destra con Dalbert a sinistra e Igor che dovrebbe dare un turno di riposo a Cacere se Terracciano importa allora io dico per carità tutto bene mancano 3-4 partite poi ce ne andiamo in vacanza a livello di Fiorentina però io dico una cosa bene che finalmente mi sei tornato a sto 3-5-2 anche nelle ultime partite i risultati si sono anche visti a Lecce però dico io ma già che ci sei mettimi Vlaovic titolare con Cutrone no? e al massimo qua me lo fai entrare nel secondo tempo che ha anche bisogno dopo un grave infortunio di entrarci piano in campo no? e poi soprattutto l'altra cosa che non capisco è che va bene mi metti Lirola scusa mi metti Chiesa in fascia grazie al Signore ci siamo arrivati però dico io ma perché mi metti Chiesa a destra e Dalbert a sinistra e lasci fuori Paul Lirola no? mettimi Lirola a destra e Chiesa a piede invertito a sinistra no deve giocare Dalbert vabbè comunque non si può sempre chiedere la luna però vi ripeto non è che stiamo chiedendo la luna sarebbero considerazioni normali da fare anche per valorizzare il patrimonio perché adesso ricollegandosi al discorso di prima degli umori volubili parlavi di Vlaovic 5-6 mesi fa sembrava che avessimo Dzeko in casa ne parli adesso è uno scarpone lo devo dare in prestito deve andare in prestito non vale niente gioca Cutrone deve giocare Cutrone via Vlaovic non sono assolutamente d'accordo fateli giocare assieme Vlaovic e Cutrone quest'anno che ormai manca un po' ma soprattutto in vista dell'anno prossimo e soprattutto vi ripeto perché è una cosa fondamentale sull'allenatore vi prego vi prego vi prego speriamo che Yuri ci arrivi vi ripeto sarei contento perché tatticamente mi piace spero porti a Firenze se viene quel che ha fatto a Verona che mi basta e avanza a livello tattico sarebbe un sogno tattico un sogno tattico sarebbe ma altrimenti attenzione attenzione ragazzi attenzione ragazzi va bene attivate il campanello che poi vi arriva il video post partita seguitemi sui social un caro saluto